Tuber bagnato un pico o trifola oppure comunemente tartufo. Sulle potenzialità di questo tesoro della terra nessuno può dire nulla, ma sulla qualità di alcuni prodotti al tartufo ci sarebbe molto da dire e da indagare. I carabinieri forestali di Pesaro e Urbino hanno scoperto una truffa e l'operazione Truffle ha accertato nella grande distribuzione il commercio di olio al tartufo senza tartufo, aromatizzato solo con prodotti di sintesi chimica che presentano in modo da ingenerare nel consumatore la convinzione di acquistare un prodotto di eccellenza. I prodotti infatti erano commercializzati con etichette che enfatizzavano con parole e immagini la presenza del prezioso fungo ipogeo all'interno dell'olio, ma l'aroma utilizzato era una sostanza aromatizzante che è una sostanza chimica definita. Si tratta delle bis metiltiometano, un'essenza naturalmente presente nel tartufo, ma ottenuta per sintesi artificiale attraverso un passaggio della lavorazione nel petrolio. Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del gruppo Carabinieri di Pesaro e Urbino si sono sviluppate in un territorio di elezione per la produzione del tartufo e hanno interessato la tracciabilità dei prodotti rinvenuti sugli scaffali della grande distribuzione. Il Nucleo Investigativo ha operato sei sequestri, tutti convalidati dalla Procura della Repubblica di Pesaro, elevando sanzioni amministrative per oltre 20.000 euro. I sequestri hanno interessato numerose bottiglie di olio al tartufo, pertinenti a quattro marchi. Le dite interessate, per conto dei responsabili iscritti nel registro degli indagati, hanno già provveduto a modificare le etichette dei prodotti. Si precisa anche che i prodotti commercializzati non sono pericolosi per la salute e che la grande distribuzione non è coinvolta in alcun modo in questa frode.